Ci sono cose per cui la morte può attendere. Distruggere Icarus. Darò una piccola dimostrazione scientifica in Islanda tra pochi giorni. Signor Bond. Icarus. Vendicarsi di chi l'ha tradito e... Come è andata realmente in Corea? Sapere di chi fidarsi è tutto in questo mestiere. Fammi entrare in Corea del Nord, lo ucciderò per te. Come pensa di uccidermi ora, signor Bond? Per il ciclo il mio nome è Bond. Gli amici mi chiamano Jinx. Gli amici mi chiamano James Bond. Ehi signor. Bond. James Bond. 007. La morte può attendere. Con Peace Brosnan. Sabato 21.25. Rete 4.